Buon 25 aprile a tutti. Voglio leggervi questa lettera. Carissima mamma, qui sono di nuovo in prima linea ed è anche una posizione assai battuta e non c'è da illudersi perché da un momento all'altro potrebbe arrivare ciò che mi toglie per sempre l'esistenza. Sai che 99,99 volte ci si scampa, ma poi quella delle cento bisogna fermarsi. Qui tutto è con me, freddo, pidocchi, sacrifici di ogni genere. Eppure ti giuro che sono sereno, come le nottate invernali. Sono candido come un giglio, paziente come una mamma. Questa lettera l'ha scritta Angelo Serturini e l'ha scritta il 14 gennaio 1943. Era uno dei 70.000 soldati italiani che vennero mandati alla campagna di Russia e non fecero più ritorno a casa, perché lui morì 12 giorni dopo aver scritto questa lettera. Oggi, 25 aprile, mi piace ricordare i tanti Angelo Serturini d'Italia e in particolare uno, Giuseppe Cristellonna, il fratello di mia nonna. Il suo nome lo ricordo da piccolo, lo vedevo scolpito sul marmo all'ingresso del cimitero di un piccolo paesino sopra la mia Merano, in Alto Adige. E ogni volta che passavo di lì vedevo questo suo nome, uno dei pochi nomi italiani tra tanti caduti delle guerre anche di madrelingua tedesca. Mi piace ricordare quello che diceva mia nonna, mio fratello è disperso in Russia, perché di lui appunto non si è mai più saputo nulla. Ecco questa parola, disperso, oggi ritorna, perché se il corpo può essere disperso, la memoria no. La memoria deve continuare invece ad essere portata avanti, oggi più che mai, ricordando da dove nacque la nostra libertà, dalla lotta di liberazione, dal fatto che tantissimi italiani si unirono per un obiettivo comune, che era quello di tornare ad essere quello che l'Italia doveva essere, ovvero una democrazia. Da lì nacque la nostra Costituzione, una Costituzione bellissima, piena di diritti e di tutele, che spesso, purtroppo oggi, non sono ancora molto rispettati nel nostro paese. E allora oggi aderiamo alla manifestazione della piattaforma 25 aprile 2020. Alle due e mezzo ci sono tantissime possibilità per farlo, sui social, sui siti di moltissimi quotidiani online, perché dobbiamo dire ancora una volta in questo paese io resto libero.